perfetto buona a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale gabriele piazzo oggi siamo sul caginamento e andremo a farci un giretto con Chiara io sono abbastanza raffreddato perché ho avuto l'influenza che ancora deve passarmi siccome Chiara aveva promesso di andare a Santo Pietro andremo a Santo Pietro già oggi sono stato fermato due volte con la moto e spero di non essere fermato ulteriormente il tuo controllo non l'ho detto nulla perché ce l'ho 100% a regola questo è il bello di avere la moto a regola quindi dovremmo trovare un metodo per avere una bella strada abbastanza piena di voragini l'altro c'è un caldo della madonna ma io sono con il giubetto, i guanti e quindi sto morendo proprio di caldo in maniera allucinante quindi siamo ufficialmente entrati nella parte trip di questo viaggio non so se avete capito ma dietro di me c'è Chiara guardate salutatela al terreno nella parteDC è pubblicità sulla sua descrizione lì ovviamente lì ovviamente non sentirà tutta stcia di quello che dico io non sentirevi nulla di quello che dico io quindi.. niente! Non so cosa abbia pensato e? a sìes Et? ok che so chi si ricorda sta strada vediamo se qualcuno la ricorda nei commenti lo scriva ma tu hai lo zaino sei pronta? andiamo? si o si? si si o si si? ok questo è lo spirito giusto a dire uno che saluta niente vediamo se ci staremmo un anno o due anni mi sono fatto due anni ancora la vedeninga qua ragazzi mi sa che ho fatto una grandissima cavolata ossia quella di lasciare la GoPro impassata allineare quindi il campo visivo è mi metto stretto oh damn it oh oh cosa c'è? sembrava di qua spero di si 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 questa è la strada sono una frana mamma mia che asfalto mi raccomando la guarda bene per le tartarughe pensate che dovremmo arrivare cioè dobbiamo scendere fino a valle e poi dobbiamo risalire quella collina per poi andare dietro quella collina wow qua ci sono strade bellissime con un asfalto ridicole consiglio fortemente di non accelerare perché tra le macchine che salgono l'asfalto è tenoso e se c'è da pensare qua è una passata veramente brutta buong bologna buong bologna mi piace molto se stavate tutto c'era un coccodrillo come si chiama? come si chiama? una rucertola ecco c'è una rucertola che ha attraversato la strada guardate che panorama guardate che panorama controlla bene controlla bene vediamo se per questa volta riusciamo a portarci a casa una tartarugina a cui dare tanto amore io da bambino avevo una tartarugina dopo 3 o 4 anni è morta mentre Chiara è impegnata a cercare la tarta io ne godo questi tormenti per me che c'è lo schifo io a Chiara ho detto che le tartarughe sono in letargo però vedremo io non penso ce ne siano sta andando piano di proposito così almeno non può dirmi che ero io che andavo troppo veloce sono in letargo Questa curva è anche un troppo bella E' schifo E' schifo Santa Pietro, frazione di Caltagirone E' schifo Invece La base 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 Sono arrivato ora! Vabbè il tempo che ci sistemiamo noi!